Buonasera, io sono l'ingegnere Dario Mantovanelli, sono responsabile marketing e responsabile tecnico di Wienerberger Italia. Wienerberger è il più grande produttore mondiale di laterizi, visto che abbiamo questa presenza sui mercati italiani e esteri, l'azienda da sempre dà moltissima importanza non solo alla ricerca e sviluppo ma anche alla formazione, proprio perché da un lato è importante fare innovazione e dall'altra parte è importante comunicarla. Io farò una presentazione un pochino più macro rispetto a quelle molto tecniche che hanno fatto i miei colleghi che mi hanno preceduto e vorrei partire da un'analisi un pochino più ampia di quello che è il territorio italiano e di quelle che sono le azioni che si stanno facendo sul territorio italiano. Allora, lo sappiamo, se ne è parlato anche oggi in abbondanza, viviamo in un territorio sismico, trascurando alcune zone, alcune parti della Lombardia, la Sardegna, un pezzettino della Puglia, per il resto viviamo quasi tutti in zone a media e elevata sismicità. Si parla moltissimo di strategie per riqualificare, di pianificazione, di investimenti, ci sono tanti progetti, li sentite anche dal Governo. E quello che noto è che nella maggior parte degli eventi e degli interventi si parla molto spesso di riqualificazione. Sento invece poco parlare di ricostruzione, a meno che la ricostruzione non sia una ricostruzione di un qualcosa che è stato distrutto dal terremoto. In realtà, chiaramente, rappresentando in un'azienda che produce latterizi, prevalentemente siamo interessati alle nuove costruzioni, però vi vorrei far riflettere su questo punto, sul ricostruire, senza che necessariamente la cosa da ricostruire sia venuta giù a causa di un evento sismico. Noi abbiamo uno dei più grandi patrimoni architettonici a livello mondiale, lo sappiamo, abbiamo tantissime bellissime eccellenze architettoniche, che sono praticamente quasi tutte nella riga, nella fascia azzurra, nella colonna azzurra di questo grafico che ho preso dal censimento del 2011, ovvero gli edifici costruiti prima del 1919. Eh, scusate, prima del 1919. C'è poi però una fascia abbastanza grande, che è quella gialla, di edifici costruiti dal 1919 al 1945, e un'altra, quella rossa, arancione, non so di che coloro la vediate, che sono gli edifici dal secondo dopoguerra fino al 1990. Ecco, in questi due segmenti, quello giallo e quello rosso, ci sono sicuramente meno edifici da tutelare rispetto alla fascia azzurra. E quindi, prendendo ad esempio l'edilizia scolastica, ci sono molti casi in cui converrebbe demolire e ricostruire, anziché andare a fare degli interventi, sia di carattere energetico che sismico, che non fanno altro che costruire una sorta di Frankenstein molto costoso, che difficilmente magari avrà le stesse prestazioni di un edificio nuovo. Quindi sicuramente la riqualificazione del patrimonio con una sua qualità intrinseca è fondamentale in un tessuto estremamente storicizzato come quello italiano. Però ecco, consideriamo che, tornando appunto all'edilizia scolastica, una percentuale importante, se voi guardate il, come si chiama, il report che tutti gli anni Lega Ambiente pubblica online, vedete che una percentuale abbondantemente superiore degli edifici scolastici è stato progettato prima del 1974, quindi prima di qualsiasi normativa di carattere sismico. Purtroppo a creare delle limitazioni a questo processo di, diciamo, demolizione e ricostruzione degli edifici senza alcun pregio architettonico, interviene il fatto che l'Italia sia un paese caratterizzato da una costellazione di piccolissimi proprietari immobiliari. Siamo attorno all'80% abbondantemente al di sopra delle medie europee. Questo ovviamente significa che è difficile, nell'ottica di un condominio, pensare a una demolizione e ricostruzione, perché ovviamente i proprietari che vivono all'interno del singolo appartamento andrebbero allocati in una posizione diversa. Più facile è il discorso del social housing, delle case popolari. Questo, per esempio, è un intervento interessante che è stato fatto a Bologna, da Lacer, l'associazione delle case popolari, e lo vedete, si vede alle spalle di quel tecnico di cantiere. Si tratta di un edificio di inizio novecento che ha una sua importanza, non tanto per la qualità architettonica dell'edificio, ma in quanto all'interno di un tessuto urbano di quell'epoca lì. Ma la comitenza, in questo caso l'Istituto delle case popolari, aveva fatto un'analisi costi-benefici e effettivamente non valeva molto la pena, non tanto in questo caso dal punto di vista strutturale, ma soprattutto dal punto di vista energetico, andare a fare un intervento sull'esistente. Quindi si è deciso, intanto è stata fatta anche una mostra fotografica dal titolo BOOM, che rende l'idea su quale fosse il percorso da seguire, e quindi cosa è stato fatto? È stato demolito l'edificio e è stato ricostruito in maniera filologica. Queste foto che vedete sono quelle dell'edificio nuovo. Quindi un edificio in cui sono stati utilizzati materiali innovativi, laterizi innovativi nostri elettrificati, poi vi farò vedere di cosa si tratta, e un teleo in cemento armato. Quindi l'effetto finale è assolutamente filologico, non si è andato a intaccare la qualità urbanistica dell'intorno e si è andato a intervenire su un edificio che non aveva alcun pregio architettonico. E questo può essere sicuramente una strada per rendere più sicuro almeno una porzione del tessuto immobiliare in cui viviamo. Queste sono immagini che abbiamo visto anche prima. Io ho intitolato questa slide, c'è mattone, mattone, perché entrambe queste fotografie sono state scattate a Finale Emilia, a Finale Emilia o in prossimità di Finale Emilia. Io avevo fatto questa slide subito dopo il terremoto del 2012, perché sentivo dire anche da tecnici, ah ma ragazzi il laterizio non è adatto per costruzioni zonasismiche. In realtà il punto è che l'80%, forse qualcosa in più, degli edifici italiani sono fatti in laterizio. Quindi se voi in Italia vedete un edificio crollato, lo vedrete in laterizio. Questo non significa che in toto il materiale non vada bene, ma poi ne abbiamo sentito parlare anche prima. C'è alle spalle tutta una serie di discorsi, soprattutto sugli edifici storici, che non sto a ripetere, che fanno parte dell'immagine alla vostra sinistra, mentre la casa di qua, che sembra l'edificio semplice da NTC, in realtà ha solo un aspetto classico, ma in realtà si tratta di un edificio nuovo ed è stato fatto con un materiale adeguato. Quindi se da un lato abbiamo tutte le considerazioni su gli edifici storici fatti appunto precedentemente, dall'altra qui abbiamo una progettazione attenta e l'utilizzo di un materiale adeguato. Non è nulla di straordinario, questa casa nonostante si sia trovata in prossimità dei principali epicentri dello sciame sismico emiliano, non ha avuto nessun danno neanche di carattere estetico sull'intonaco. E non è che sia un miracolo, è semplicemente stato progettato appunto in maniera adeguata. Un'altra immagine, andiamo ad un altro evento sismico, quello dell'Aquila del 2009. Quest'immagine secondo me è emblematica perché diciamo che quello che si notava molto all'Aquila erano i tamponamenti esplosi, ma tamponamenti, andiamo a vedere di che tamponamenti si tratta, lo vedete in questa immagine. L'edilizia, ahimè, anni 70, 80 e purtroppo anche anni 90, è stata un'edilizia fatta con dei tamponamenti, i famosi forati, materiali estremamente leggeri, parliamo di pareti che pesano 70-80 kg al metro quadro, assolutamente non vincolate al telaio in cemento armato. Cioè questo è l'abaco degli errori, nel senso è appunto emblematica in questa immagine, se guardate la tapparella, è bastata che la tapparella fosse inchiodata al cordolo per far sì che questa porzione di muro non venisse giù. Ecco, è un caso limite ovviamente, però se in fase progettuale si fosse andato in qualche modo ad ancorare il tamponamento al telaio e soprattutto non si fosse scelta una soluzione da 70-80 kg al metro quadro, verosimilmente questo tamponamento non sarebbe esploso. Quindi ecco, la soluzione è una complessità di soluzioni, nel senso non esiste il prodotto antisismico, come a volte mi chiedono il prodotto per edificio in classe A, non è il prodotto, è un insieme di fattori. Io ne ho identificati tre, poi per carità ce ne possono essere di più o di meno. Sicuramente la prima componente importante è la progettazione, non so se vi è capitata di vedere questa foto, girava su internet un po' di tempo fa, è un condominio cinese che è in posizione orizzontale. Tra l'altro è crollato in posizione orizzontale talmente lentamente che non si sono neanche rotti gli infissi, se vedete ci sono ancora le vetrate a posto, ma è emblematico su un errore di progettazione. Qui evidentemente, palesemente, è stata sottostimata la fondazione. Quindi la colpa non è né del cemento utilizzato, né dei ferri utilizzati per le fondazioni, ma un problema prettamente di calcolo. E poi ovviamente c'è anche l'altro grandissimo problema, la posa. E questo vale sia per la termica, ma soprattutto anche per la progettazione strutturale. Noto spesso nei cantieri una discrepanza totale tra l'ipotesi progettata, ad esempio in sismica dal collega che mi ha preceduto, e poi la qualità con cui la maestranza mette in opera il prodotto che era stato scelto e capitolato. Questo è un caso limite, ma questo non è affatto fatto in un cantiere qualsiasi. Questa parete è un laterizzo tradizionale semipieno, che ha una buona valenza anche dal punto di vista della resistenza strutturale, ma è posato malissimo. Vedete qui, per esempio, l'impresa non ha messo la malta in verticale. Questa parete sicuramente non avrà, nel caso reale, il comportamento ipotizzato in fase di progettazione. E quindi diventa fondamentale anche la posa. E terzo, ma non meno importante, ovviamente anche la soluzione costruttiva. Dicevo che non esiste il prodotto magico, ma non è neanche vero che tutti i prodotti vanno bene. Quindi una progettazione attenta, la scelta delle soluzioni adeguate e le maestranze giuste fanno veramente la differenza. E quindi cosa è successo, ad esempio, in Emilia? E' stata fatta una ricognizione piuttosto approfondita da Andil, che è l'associazione di categoria dei produttori di latterizi, e dall'Eusenter, l'Eusenter di Pavia, per andare ad analizzare cosa fosse successo. Quello che si è visto, vi ricorderete anche voi l'immagine dei telegiornali, questo è il castello che abbiamo visto prima, la maggior parte dei crolli e ai medie decessi è stata causata dal fatto che, come ben sapete, il territorio non era considerato sismico e quindi i capannoni erano stati progettati in una relazione sismica, con la parte superiore non ancorata, ma semplicemente appoggiata. E in realtà si è visto, dalla ricognizione fatta da Andil, che quasi nella metà dei capannoni esistenti si sono accertati i problemi, che la maggior parte degli edifici storici hanno avuto danni molto evidenti e crolli, e anche una parte però degli edifici moderni, e questa è stata la sorpresa. Io ricordo che mi era stato detto che un edificio in muratura portante a Rovereto, mi pare di ricordare, fosse crollato, un edificio costruito nei primi anni 2000, e sono andato a vederlo. E quello che ho visto è stata un'immagine molto simile a quella del muratore che vi facevo vedere prima, che ha posato male. Gli era stato utilizzato un prodotto tradizionale, un prodotto scatolare liscio. Sapete, nei primi anni 2000 le imprese lavoravano molto velocemente, c'era molto lavoro, evidentemente l'impresario aveva deciso che secondo lui la malta in verticale, tra un blocco e l'altro, non era necessaria metterla. E quindi cosa è successo? Durante l'evento sismico, semplicemente l'angolo dell'edificio si è staccato, perché non era ancorato. Quindi il lavoro dello strutturista era stato fatto anche bene, perché aveva scelto un buon prodotto, aveva scelto una malta prestazione garantite, il progetto era semplice, per cui verosimilmente sarebbe stato giù, il fatto che sia stato posato male l'ha fatto crollare. Invece, positivo, è una cosa che si è vista meno all'Aquila, per motivi legati alla cultura progettuale, in Emilia, come si diceva prima, c'è molto la cultura della muratura portante, e questa, anche muratura portante storica, ha fatto sì che i danni effettivamente fossero notevolmente meno di quanto potessero essere. La ricognizione è stata fatta su 42 edifici, tutti costruiti con vari edifici moderni, per valutare come avessero risposto al sisma, e come potete trovare online, perché si trova online il report, il risultato è stato assolutamente positivo. Vi faccio vedere, a titolo di esempio, un edificio a finale Emilia, che ha avuto la fortuna, si fa per dire, di trovarsi a 10 chilometri dai due eventi sismici principali. La casa è questa qui, un edificio, anche qua, togliendo, se eliminate il portico davanti, sembra il classico edificio semplice da NTC. Questa è una foto fatta dopo il terremoto. L'edificio non ha avuto nessun danno neanche di carattere estetico. Voi siete della zona, sarete andati nelle zone epicentrali, non immaginatevi che questo fosse l'unico edificio intatto e gli altri rasi completamente al suolo, ma questo è stato l'unico a non avere nessun danno, neanche di carattere estetico. Tant'è vero che sia l'EU Center, sia l'Università di Pavia, che un'università tedesca, sono andati a fare una modellazione di calcolo, perché sono rimasti sorpresi loro stessi sul fatto che non avesse avuto problemi. Ma in realtà anche qui, a me non sorprende particolarmente il fatto che non abbia avuto problemi. è stata utilizzata una muratura da 45 cm di spessore, un materiale con delle certificazioni trasparenti che hanno permesso al progettista strutturale di progettare in maniera adeguata, ed è stata utilizzata un'impresa che sapeva fare il suo lavoro. Chiaramente un blocco di questo tipo, che ha delle resistenze meccaniche, un FK della muratura di 7 N su un millimetro quadro, e anche delle buone resistenze a taglio, resiste bene a un evento sismico come quello che ha attraversato l'Emilia. Tra l'altro un blocco di questo tipo ha anche una massività tale, avendo un peso notevolmente superiore a 300 kg al metro quadro, che gli consente di avere uno sfasamento di 24 ore. Quindi non solo è un edificio sicuro, ma è anche un edificio che costa poco dal punto di vista energetico. Qui scorro magari un po' velocemente i singoli dettagli, tanto poi li vedremo in seguito, tanto poi vi lascio le slide. e fa vedere un po' quali sono le caratteristiche dell'atterizzo. Poi le guardiamo più avanti quando parliamo di muratura. Quello che mi premeva era appunto farvi vedere l'importanza dei dettagli. Cioè nel momento in cui si utilizzano soluzioni semplici e imprese in grado di posare in maniera adeguata, i risultati poi si vedono quando ci sono eventi come questo. Questo poi è stato fatto uno studio termico per verificare che appunto la trasmittanza termica dichiarata fosse reale. E così è stato. Vi ho parlato di muri, di blocchi rettificati. Cosa sono? Allora ancora oggi il blocco più venduto in Italia, uno dei blocchi più venduti in Italia, questo qui è il blocco modulare. Qual è il problema? Che i software, parlo sia di software di calcolo strutturale che software per il calcolo dei fabbisogni termici, fa delle semplificazioni. Nel caso specifico la riga rossa che è la malta. Quindi voi quando utilizzate un blocco di questo tipo e lo abbinate per esempio a una malta prestazione garantita M10, il software farà una cosa di questo tipo, considerando un giunto di malta tendenzialmente attorno al centimetro, perfettamente posato sia in verticale che in orizzontale. Però vi faccio vedere di nuovo la foto di prima. Questo è un prodotto che avrà delle prestazioni, questa è una parete che avrà delle prestazioni completamente diverse. Quindi cosa abbiamo fatto come industria dell'atterizzazione? Siamo andati a cercare di eliminare il più possibile l'influenza della malta per andare a creare delle pareti il più omogeneo possibile. Il primo passo è stato quello di eliminare i giunti verticali. Eliminando i giunti verticali si dimezza il consumo di malta e migliora anche termicamente la parete. Il passo successivo è stata la rettifica. Con la rettifica si può fare un giunto di malta di appena un millimetro. In questo modo si riduce il consumo di malta del 90% e si ha un comportamento molto più omogeneo della struttura. E questo è premiante sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista termico. Giusto per darvi un esempio, più che altro dal punto di vista termico, di cosa si riesca a fare con un laterizzo rettificato, vedete con questo blocco da 45 centimetri arriviamo, rispetto a quelli che sono i requisiti dalla normativa, a prestazioni notevolmente superiori. Perché, prendendo ad esempio la zona climatica E, come orizzonte 2019-2021, la normativa chiede una trasmittanza di 0,26. Noi siamo a 0,19, molto meglio. Dal punto di vista, diciamo, della massa, per un discorso di confort estivo, la normativa chiede 230 km2, noi siamo sopra i 300. E quindi una prestazione notevolmente superiore. ovviamente si vede la differenza. E la differenza diventa sostanziale appunto quando si parla di strutture in zona sismica. Sulla parte termica, invece, scorro veloce, vedete, queste sono tutte problematiche che un software di calcolo non vede, ma che poi in fase di cantiere si presentano. E su quanto, qua non so se si vede bene l'immagine, questa cosa bianca non è malta, ma è la luce del cielo dietro. Quindi sono tutte problematiche prettamente di cantiere. Anche in questo caso, questa è una parete che su un software di calcolo avrà una prestazione X, in realtà ne avrà una Y. Vi invito su questo punto, su quanto siano problematiche, quante siano le problematiche degli edifici costruiti anche in età recente, vi consiglio di scaricare questo documento di lega ambiente, che si chiama Tutti in classe A. Altra cosa importante, io qui veramente ci tengo sempre tanto, sul discorso delle certificazioni, perché come prima c'è mattone e mattone, anche qua c'è certificazione e certificazione. I progettisti sono tenuti a richiedere la DOP, la dichiarazione di prestazione, che è quella che ha sostituito la marcatura CE. Attenzione, tutto il resto che vi viene consegnato dalle aziende produttrici è materiale di marketing. Questa è la carta di identità del prodotto. Qui ci sono le resistenze meccaniche, qui ci sono i parametri termici, le tolleranze dimensionali, qui dentro c'è tutto. Tutte le altre cose sono brochure di carattere commerciale. E tutti i prodotti utilizzati in Italia devono avere la marcatura CE. Nel caso specifico dell'atterizio, noi su ogni blocco facciamo passare questa stringa, in cui vi dice, vabbè adesso senza andare nel dettaglio, vi dà un codice numerico, che vi permette di rintracciare esattamente la DOP, la carta di identità, di quel lotto di produzione. E quindi vi aiuta a capire se siete sulla strada giusto o meno. E poi su ogni bancale mettiamo un'etichetta di questo tipo, in maniera che sia ancora più identificabile. Altra cosa, su cui vado velocemente, criteri ambientali minimi. Sapete che è richiesto che per tutti gli appalti pubblici venga utilizzato il materiale riciclato nei prodotti di costruzione. Nel caso dell'atterizio si parla del 10%. Noi abbiamo già l'etichetta ambientale di tipo 2, che è la ISO 14.021, e stiamo facendo l'LCA, il Life Cycle Assessment, per appunto andare a definire l'EPD, cioè avere l'etichetta di prodotto. Queste sono cose molto importanti, in cui crediamo molto, perché l'atterizio, essendo un materiale con materie prime estremamente naturali, e quindi non avendo nessun problema, in fase poi di fine vita, è sicuramente premiante per noi un processo di questo tipo. Vado velocemente sull'NTC 2018, per quanto riguarda l'atterizio non ci sono grandissime novità, mi soffermo soprattutto sul capitolo 11, in cui c'è una cosa che c'era già prima, ma che ci tengo a sottolinearvi, la categoria, noi siamo in categoria 1, questa è una cosa che vi invito a guardare spesso, perché essere in categoria 1 per noi è un costo notevole da sostenere, perché abbiamo un ente esterno che viene a certificare i nostri laboratori interni. Con la categoria 1, gli elementi prodotti da aziende in categoria 1 hanno una resistenza a compressione dichiarata che viene determinata con un rischio di insuccesso del 5%. Gli elementi in categoria 2 non hanno questo requisito, quindi vedete successo o meno di un progetto in zona sismica. Giatto è un prodotto in categoria 1, categoria 2, c'è un margine alle autorità diversa. Poi ecco, una delle novità dell'NTC18 sono cambiate le prove di accettazione in cantiere, a seconda che si introduce il discorso della resistenza media FBM, oppure se si utilizzerà la resistenza caratteristica. Non sto a dilungarmi, comunque nel manuale tecnico che dovreste aver preso l'ingresso, c'è una parte dedicata esattamente su questa cosa qui. Per quanto riguarda i blocchi, abbiamo tre categorie da normativa. Il blocco semipieno, che è quello centrale, e il blocco pieno vengono definiti così in base alla loro percentuale di foratura, che nell'elemento semipieno va dal 15 al 45%, nel pieno va dallo 0 al 15%. Questi sono i materiali utilizzabili in zona sismica. L'elemento forato ha una percentuale superiore al 45%. L'FBK e l'FBK assegnato, ve li facevo vedere prima, sono resistenze meccaniche a compressione verticale orizzontale, questo giusto per leggere le DOP di cui vi parlavo prima. E la Malta, sapete che in zona sismica non si può usare il giunto interrotto. Ci tengo sempre a sottolinearlo, perché ovviamente le imprese, facendo prima, tendono magari a proporlo. La muratura, le tipologie di muratura previste sono tre, muratura ordinaria, muratura armata, e vabbè, il terreno è un cemento armato, che in realtà non è una muratura portante, ma è un tamponamento. Nel caso della muratura armata, bisogna rispettare tutti i requisiti della muratura portante ordinaria, ha il vantaggio la muratura armata di avere una flessibilità maggiore in termini, diciamo, compositivi. Mentre la muratura ordinaria richiede una maggior rigidità e soprattutto anche nelle finestre d'angolo, nei seti tra un infisso e l'altro, con la muratura armata si può lavorare con maggiore flessibilità. Anche qui scorro velocemente. La muratura armata in pratica consiste nell'inserire un'armatura minima con dei F5 sia in orizzontale che in verticale, anzi, scusate, i F5 annegati nella malta in orizzontale, un'armatura minima con un F16 e in verticale. L'impianto deve essere di questo tipo qui, quindi l'armatura verticale deve essere fatta in corrispondenza degli angoli, in corrispondenza delle aperture, e appunto il vantaggio è che mentre nella muratura ordinaria dovete ad esempio in angolo garantire sempre almeno un metro, nella muratura armata si può andare a fare degli infissi a filo ad angolo. Qui cose viste in cantiere, il giunto interrotto ovviamente, come vi dicevo prima, non si può utilizzare, il giunto continuo va bene. Nel caso specifico noi abbiamo la tasca, ce l'abbiamo sia per i blocchi armati che per i blocchi ordinari, che sostituisce il giunto di malta e le NTC dicono proprio espressamente nel capitolo 7.8 che la tasca del 40% dello spessore equivale al giunto continuo. Vado velocemente perché mi sa che mi sta terminando il tempo. Il blocco rettificato è molto semplice da posare, non richiede particolari maestranze, bisogna mettere perfettamente a bolla il primo corso. Una volta messo a bollo il primo corso, la malta che viene utilizzata con il rettificato è una malta M10, a prestazioni garantite, l'unica differenza rispetto a una malta tradizionale di quelle che fanno spessore è la granulometria, una granulometria molto fine, viene stesa con il rullo che vedete nella mia immagine, nell'immagine qui sopra, oppure viene posato per immersione. I pezzi speciali si tagliano e la parete che ne scatolisce è una parete appunto molto omogenea. Si può utilizzare anche questo adesivo che si chiama Dryfix. Ad esempio, i consumi, appunto, come vi faccio vedere, diminuiscono drasticamente. Si parla di un 90% in meno tra un prodotto rettificato e un prodotto modulare e i tempi di posa, sempre tra un prodotto modulare e un prodotto rettificato, si dimezzano. Con il Dryfix, poi, la velocità è ancora più ampia. Questo è un progetto che abbiamo seguito a Rovereto per... è stata una donazione che abbiamo fatto dopo il terremoto per un centro polifunzionale che è stato dato alla città dopo, appunto, l'evento sismico. Questi sono stati tre autotreni di materiale che sono stati montati, praticamente, in quattro giorni lavorativi. I vantaggi sono questi qui. La durabilità è sicuramente un valore aggiunto notevole perché si ha un mantenimento prestazionale. La prestazione che oggi all'atterizzo è la stessa che avrà tra 50 anni e più. Come vi dicevo, i materiali sono materia prima, molto semplice, parliamo di argilla cotta e quindi anche questo nell'ottica della normativa che si sta involvendo nel campo della sostenibilità ambientale diventerà sempre di più un valore aggiunto perché non dimentichiamoci che si parla di economia circolare quindi la fine vita di un prodotto deve essere lo spunto per un nuovo inizio e così via. Detto questo, direi che ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.